Sono Marco Manganello, titolare di Ecosysm SRL. Oggi ci troviamo a Loreggia, in provincia di Padova, in questo splendido cantiere che sarà la nuova sede direzionale e commerciale della TM Costruzioni S.P.A., un'importante impresa di costruzioni della provincia di Padova. In questo cantiere si è scelto di utilizzare la tecnologia di costruzione Ecosysm per la realizzazione dell'involucro edilizio perimetrale portante e di una parte delle murature portanti interne. La tecnologia Ecosysm si basa su una serie di casseri a rimanere, partendo dalle pareti portanti a getto singolo, che vengono utilizzate in questo cantiere, passando poi per le pareti a getto doppio, che sono delle pareti estremamente performanti dal punto di vista acustico, termico e sismico, alle pareti singole, che sono le normali tramezze di separazione all'interno della stessa unità abitativa. Produzione su misura, efficienza di cantiere. Noi, come dei sarti, andiamo a tessere l'edificio in funzione del progetto. Lavorando un filo di acciaio zincato, creiamo una trama tridimensionale, all'interno della quale andiamo a collocare differenti spessori di materiale isolante, che in fase di cantiere faranno da cassero per il getto del calcestruzzo. Una volta che il cantiere è terminato, diventeranno l'isolamento termico e acustico della nostra parete. Personalizzazione completa dei materiali isolanti cassero, dal polistirene espanso al neopor aditivato con grafite, all'XPS, quindi il polistirene estruso, alle lane di roccia, alle lane di vetro, al sughero, al legno mineralizzato. Il materiale isolante va scelto in funzione della proprietà termiche, acustiche di resistenza al fuoco che la parete dovrà avere. Con il sistema costitutivo Ecosysm si realizzano quattro fasi distinte del processo di costruzione con un'unica operazione di posa in opera. Pertanto la struttura portante, il tamponamento dell'edificio, l'isolamento termico e l'isolamento acustico vengono realizzati in contemporanea. Questo dà luogo ad un'enorme economia di tempi e di costi, di riduzione dei rischi di cantiere e di certezza di qualità di risultato. La posa in opera del sistema avviene in maniera molto semplice, i casseri sono estremamente leggeri, si posano a mano, seguendo lo schema di posa creato dal nostro ufficio tecnico, e pertanto poi vanno armati, cioè va inserita all'interno della cassaforma termica l'armatura strutturale di rinforzo calcolata dall'ingegnere strutturista. A questo punto, una volta posati ed armati i casseri, si prosegue con la fase di getto in opera di calcestruzzo, andando così a riempire le nostre pareti con un getto continuo di cemento armato che dà alla struttura un'importantissima caratteristica di monolicità e quindi di antisismica. Eliminiamo completamente le discontinuità tipiche pilastro-tamponamento, creando strutture a pareti portanti monolitiche che hanno un grado di sicurezza in caso di eventi accidentali o naturali, quindi sismi, cicloni o esplosioni, notevolmente più elevata rispetto alle strutture tradizionali o all'edilizio in legno. La casa del futuro deve essere a risparmio energetico, cioè ecosostenibile. Cosa significa questo? Ridurre i consumi nell'arco di 50 anni di vita utile dell'edificio per coprire tutti i consumi impiegati per produrre tutti i materiali che lo compongono. La sostenibilità ambientale si basa sull'analisi del sito di vita dei prodotti e degli edifici. Un edificio inoltre estremamente sicuro, quindi un edificio antisismico, scatolare, che dia sicurezza a chi lo vive e un grado di salvaguardia della vita molto più elevato rispetto a una struttura tradizionale. Infine un edificio acusticamente molto performante per vivere in serenità senza sentire i rumori del vicino, i rumori delle strade o i fastidiosi rumori che possono non darci un benessere nella vita. Infine una struttura resistente al fuoco, data dalla proprietà tipica del calcestruzzo e in questo caso dall'impiego di materiali isolanti come cassero che siano in classe A1 al fuoco, come la lana di roccia. Queste caratteristiche rendono oggi il nostro prodotto estremamente indicato per l'edilizia di qualità che guarda al futuro. Ecosismo è un'azienda che lavora in qualità, ha una certificazione ISO 9001 ed inoltre ha ottenuto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche la marcatura CE del sistema costruttivo che sarà obbligatoria dal primo luglio di quest'anno. Pertanto la qualità, la sicurezza e la garanzia di un'azienda che lavora rispettando i principali standard di qualità europei e nazionali. Perché le aziende migliori scelgono i fornitori migliori. Grazie per la visione! Grazie! Grazie!